Una coppia di Termini Merese, 46 anni lei e 42 lui, è stata arrestata dalla Polizia Postale per violenza sessuale, adescamento di minori e divulgazione di immagini video a contenuto pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo. Le indagini erano state avviate dalla Polizia Postale di Palermo e Catania e dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online il 27 agosto scorso, dopo il ritrovamento in casa della coppia, di oltre 100.000 file di immagini e video di pornografia minorile. Con l'analisi del contenuto dei dispositivi informatici sequestrati alla coppia, sono emersi ulteriori reati da parte dei due riguardanti adescamenti online compiuti dall'uomo con la complicità della convivente. Utilizzando tre profili social falsi, due di ragazzini e l'altro di una blogger molto nota tra i teenagers, l'uomo adescava giovanissime vittime, in particolare con due ragazze catanesi di 13 anni, si era instaurata una falsa relazione a distanza e le due sono state indotte a compiere e ad assistere ad atti sessuali. Le adolescenti, sentite dalla Polizia Postale di Catania, su delega del Pubblico Ministero, alla presenza di una psicologa, hanno raccontato quanto accaduto. È emerso pure l'adescamento di un terzo minore, un ragazzo di 14 anni, anche lui di Catania. Gli arrestati sono stati rinchiusi in carcere a Palermo e Termini Merese.